Buongiorno, sono il professionista, mi avete chiamato. Ah, è lei, buongiorno. Si accomodi, si accomodi. Sono venuto per le veline. Si, si. Che cosa? Le veline. No, no, le galline. Ah, le galline, va bene lo stesso, stesso prezzo, ce la faccio lo stesso. Ce la fa? Tutto a posto? Posso? Si accomodi, si accomodi. Permesso? Si accomodi, si accomodi. Questo è il follaio. Lì ci sono... Le veline? Scusi, le galline. Le galline, velline, sono qua. Bella, bella, rotonda questa. Vedo molto bene. Vediamo se posso curarle con questa nevrosi. Nevrosi da gallina o da velina. Un attimo. Nevrosi, 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 nevrosi. Glocone di marco di giù. Nevrosi,���vi. Ehm, la regia. Il mio cardio. È diventato una regia che era in un primo ruolo. Ehm, la regia. Ehm, la regia. Un attimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.